È l'occhio ed il braccio della regione toscana sul territorio per capire se l'aria, l'acqua, l'ambiente che ci circonda è sano oppure no. Eppure questo occhio, questo braccio armato sta per mollare la presa. Stiamo parlando di ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, il cui personale è ufficialmente in stato di agitazione. L'ARPAT denunciano CGL Cisleville sull'orlo del collasso e con l'appoggio anche della RSA e della dirigenza che è stato dichiarato lo stato di agitazione. Il Dipartimento di Arezzo conta 16 persone e due dirigenti. Ad essi si aggiungono sei tecnici di laboratorio e un gruppo di fisici che operano non solo nella provincia di Arezzo ma anche in quella di Siena e Grosseto. Una situazione difficile, affermano i sindacati, la cui causa va ricercata in un quadro nazionale incerto ma anche nelle politiche regionali miopi e scelte aziendali incomprensibili. La regione impone ad ARPAT ulteriori vincoli di bilancio che hanno pesantemente inciso sulla spesa di personale e che ancora limitano la possibilità di assumere. Ne deriva un calo dei controlli ambientali solo nel 2018 di circa il 20%. È paradossale, proseguono i sindacati, che tutto questo avvenga in un territorio che ha nell'ambiente naturale e costruito la sua principale fonte di ricchezza.